Adesso anche dei nostri, il Mitsubishi SX è il conto attorzionale legante e destratile con motore di 1.600 mm CL e 1.8 diesel fino a 150 cavalli. Splendido era? Il Mitsubishi SX è fine, con porto di tecnologia e sicurezza, due 4 moto motrici ed equipaggiamento completo di sistemi di sicurezza, come sempre vedete in SX. Guarda che interni, c'è anche effetto panoramico. Il Mitsubishi SX è il soggetto che risponde ad ogni tua esigenza, rispetto a questo passaggio in città, un evento è il tuo gentile per il motore. E inoltre, bassi consumi ed emissioni, anche grazie alla nuova versione CDL. Tutto questo ha un prezzo davvero interessante, da 17.900 euro con i contenitori concessionari. Avete sentito bene, da 17.900 euro, corso a provarlo. Il Mitsubishi SX, il nostro, tramite, tramite. Il Mitsubishi SX, il nostro, tramite. Il Mitsubishi SX, il nostro, tramite. E' bello se mi siete sempre a casa, con la foto stisci un'idea di caso, non so, 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 non so. Trovate pizza a ristorante, così sottile, così pancante, così ricche e saponente. Un nuovo modo di vivere una pizza, ristorante, una pizza, come nessuna. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.